Insegnanti, giornalisti e uomini di diritto, persone che hanno un ruolo significativo nella vita sociale e cittadina, mettono le loro conoscenze a disposizione nella prima scuola di formazione. Nasce da un'idea dell'Associazione Culturale Fratevere Arno. L'obiettivo ambiziosissimo è quello di attirare giovani, ma anche meno giovani, che abbiano voglia di amministrare la cosa pubblica e abbiano voglia di imparare, la dico grossa, come si fa? Nel senso che si preparino a fare consigliere comunale, provinciale, regionale, quello che sia, ma avendo oltre la loro cultura anche un aiuto da parte di docenti di formazione civica, di sostanzialmente educazione civica, molto competenti nel loro settore. Il percorso inizierà il 24 ottobre e sorge grazie a una convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena. Professoressa Nannini, lei è stata per molti anni nella scuola. Con quale spirito torna a scuola in questa esperienza che possiamo definire anche innovativa in fondo? Con la stessa passione con cui ho lavorato 39 anni. Questa nuova, diciamo, iniziativa mi restituisce quella passione, mi ha restituito questo entusiasmo, soprattutto perché quello che ho detto in precedenza, cioè che è estremamente utile ad una materia per cui non ci sono insegnanti pronti. Le elezioni saranno ospitate nel Palazzo di Fraternita. La Fraternita dei Laici ha nel suo statuto la tutela culturale della popolazione aretina. Oggi è il tempo dei contenuti. Bisogna creare una classe dirigente adeguata alla contemporaneità. La Fraternita dei Laici c'è ancora.